Un saluto a tutti gli sportivi di Figline, volevo augurarvi un sereo Natale con la speranza di rivedersi presto in campo e di ritrovare quella normalità che serve a tutti. Un bacione e tanti auguri ancora. Tanti auguri di Buon Natale a tutti gli sportivi di Figline, sperando di potersi rivedere allo stadio il prima possibile. Tanti auguri di Natale e soprattutto tanta, tanta, tanta felicità. Ciao, vi auguro un Buon Natale a tutti e l'esperanza di farci vedere presto. Auguri a tutti per un felice anno nuovo, pieno di soddisfazione. Auguro a tutti un felice Natale e anno nuovo, grazie. Auguro Buon Natale a tutti gli sportivi di Figline e di tutta Italia, speriamo di rivederci presto, buone feste a tutti. Buon Natale a tutti, nella speranza di rivedersi presto sul percorso e di vincere ancora. Auguri a tutti, nella speranza di potersi rivedere presto. Auguri di Natale e si spera di ritorno a presto. Tanti auguri di Buon Natale a tutti i ragazzi e bambini della Valdarn Football Club, sperando di rivedersi presto. Tanta auguri a tutti i bambini e a tutte le famiglie della Valdarn Football Club. Buon Natale!